Ciao ragazzi in questo nuovo video e oggi siamo qua su minecraft e oggi faremo una sfida qui con Mario Mario saluta Ciao Ok ragazzi allora siamo qui e adesso faremo questa sfida praticamente sopravviveremo senza toccare l'aria praticamente senza andare sopra Noi siamo andati solamente per arrivare qua quindi abbiamo solamente il piccone e un po' di cibo non ci abbiamo ancora niente perciò inizierà da adesso ragazzi siamo riusciti a scendere adesso abbiamo fatto tutta una cosa mi sono riuscito a tre ore sono morto pure non sono riuscito a tornare ho perso il cibo solo questo qui è rimasto allora prendiamo un po' di qua ok ragazzi allora adesso dobbiamo andare in magica e craft in table perchè a parte questi pezzi di legna noi non possiamo proprio andare sopra perciò adesso troviamo il modo ok ragazzi insaliamo qua qualcosa ragazzi abbiamo raro questa ah era una mineshaft che fortuna ragazzi diamanti però non li possiamo ancora prendere come? ah ok ragazzi allora ci abbiamo del legno la cosa importante per farci una bella crafting ok abbiamo preso un po' ma non ne prenderà altro ragazzi se volete altri video del genere iscrivetevi così che noi possiamo continuare a fare i video siamo sempre contenti se vi iscrivete allora prendiamo tanta legna Mario io mi posso già fare la crafting table poi che la posso fare? ma ne ho solo una perchè se no sprechiamo la legna si io l'ho già fatta perchè non sprechiamo altro allora ragazzi oggi dovremo fare una bella spada che sarà molto importante allora ci vuole essere qualche cesto o dove sto controllando si ok ragazzi abbiamo preso abbastanza legno Mario allora la crafting poi abbiamo queste anche così ci possiamo fare un bel letto un bel letto ok allora Mario io metto qua la crafting ci facciamo delle cose le spade allora visto che abbiamo tanta pietra io mi inizio a fare il piccone una bella spada ok ah il piccone già ce l'avevo rimenticato allora che potremmo fare allora una bella fornace così ci possiamo mettere a cuocere del ferro se lo troviamo anche se lo giochiamo un po' ma ne faccio un'altra di fornace perchè così li spagniamo ok adesso con la spada ci prendiamo questo per fare un bel letto non so se ce la facciamo con le starine oh Mario ci sono bimbi allora allora vediamo se ce ne sono altre bene ok ragazzi abbiamo trovato un po' di legna là prendiamo altre di queste ragnatele stiamo a 7 ok ragazzi sono riuscito a fare due di lana in quelle che abbiamo trovato mi giuro oh Mario del bel ferro finalmente oh Mario diamanti di diamanti di diamanti Mario prima avevo trovato avevo trovato un po' di ferro Mario mi puoi dare il ferro che ho trovato? si però dobbiamo dobbiamo cuocerlo così che la ci sono i diamanti però le posso prendere io pure con gli altri due le ho trovato eh va bene si se dopo riusciamo a ritornare ok Mario due devo ritornare dove stavamo prima ce ne sono tre diamanti qua ci sono tre diamanti perché Andrea l'ha già fatto il piccone di ferro no ho solo visto quanti erano quello lì quello lì che hai trovato te li teno in dirù però l'ho già presi quello lì faccio un'altra grafica perché non so dove l'hai messo ok ragazzi quindi ho preso del ferro ho fatto anche il piccone ok ragazzi magari ho fatto il piccone quanti diamanti quanti diamanti me li puoi dare così che posso già fare il coso grazie ok ok facciamo il nostro bel piccone di diamante Mario che dice faccio il piccone o la spada? è il piccone ragazzi vediamo pure lo studiamo si perché da ok io ho creato il letto per il checkpoint per spawnare ok ragazzi stiamo tornando dovrebbe essere da questa parte eccoci qua allora Mario tu hai prima quei diamanti che rimanevano Mario tu ce l'hai un po' di lana per il letto? no 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 c'ho solo 6 pezzi io c'ho 3 di lana oh un generatore Mario allora polvere da sparo che a me piace molto perforazione 4 io sono morto vabbè tanto avevamo fatto il letto per fortuna ok ragazzi abbiamo preso un po' di cose abbiamo trovato quindi perforazione 4 andiamo a esplorare ok ragazzi e loro abbiamo trovato qua questa un'altra ghia cieca però abbiamo trovato un po' di ferro Mario è riuscito un po' con il ferro a farsi un po' di armatura la parte di sotto allora qua pure una via cieca dove siamo venuti da qua? no no che è successo no Mario uno scheletto nooo Mario tippati da me Andrea sto in creativa posso mettermi in survival? perché? e tippati un attimo da me perché mi devo tippare da te se sei morto? perché la cittano le mie cose ma lo so forse adesso aspetta no perché sono caduta in un buco strano perciò non puoi sapere adesso però ho trovato i diamanti vabbè non fai niente qua ho preso un blocco ti sono tippato il resto dove sei morto tu? ok non ricominciare ecco qua le mie cose vedete c'è fai della legna? no me la vivo un po' è in mezzo al muro prima quindi devo rifare tutto da qua ok ok ragazzi abbiamo rotto un po' d'oro oro grigio o altro ferro così adesso ne posso fare pure io un po' d'armatura altri diamanti ho trovato bravo allora allora me lo aspetta che ritorno da te così vediamo vi farò metà metà diamanti erano solo quattro quindi sono miei perché ce le avevi già in mezzo al muro ah si che mi ero fatto voglio comunque adesso torno da te no davvero che ragazzo è loro mare dovrebbe essere mare dove si è finito sto qua sotto allora ho dovuto rifare tutto da qua perché stavo perso eh che eri morto con quello zombie mini mamma mia veramente sono i mostri i più inutili del gioco come le minuscole come le minuscole qua adesso non guardi qua facciamo attenzione non morire magari allora facciamo di qua ok facciamo attenzione ole eccoci arrivati allora no un'altra via cieca no no continua un enderman è quasi trovato sì ti ho visto ammazziamolo no un enderman oh un enderman pure io c'ho due cuore a mezzo si, si fila un po' di qua ok, ringraziamo Mario così c'ho un po' a correre la vita ok vabbè, ragazzi il video finisce